Lì sopra c'è anche l'arrivo della cabinovia spinale, questo è il monte spinale, questo è il monte spinale e qui si vede la pista rossa dove c'è tutta questa gente che è la spinale rossa che abbiamo fatto prima e che abbiamo ripreso con Luisa È freddo, più uniformazione, più saliamo più la temperatura, scende, guarda che bello Ma io stavo facendo tutto l'arrivo e l'arrivo sentivo ancora più freddo È freddo cane